Salve e benvenuti al secondo incontro di questo ciclo di sei video lezioni sulla storia delle migrazioni in Italia intitolato un secolo di migrazioni in Italia 1920-2020 a cura dell'istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di Biblioteche di Roma. Questo incontro è dedicato agli anni del fascismo quindi alla fase che si apre dopo la prima guerra mondiale dopo i grandi cambiamenti intervenuti a seguito del primo conflitto bellico di cui ha parlato nella scorsa video lezione Michele Colucci e iniziamo leggendo il brano di un diario e poi che aveva venuto quella maledetta dittatura fascista che aveva proibito a tutte i lavoratori di emicrare nelle altre nazioni perché dovemmo morire soffocate tutte d'ognuno ai suoi paese e neanche si poteva vantare a lavorare in Francia perché Mussolini si aveva sciarriato con tutte e quindi restai senza lavoro e senza niente. Questo è un brano tratto da il diario di Vincenzo Radito, bracciante siciliano, che ha scritto le sue memorie e sono state consegnate al premio diaristico di Pieve Santo Stefano e quindi pubblicate da Enaudi in un volume intitolato Terra Matta. Rabito è un bracciante siciliano e registra nelle sue memorie questo grande passaggio successivo alla prima guerra mondiale, l'avvento del fascismo in questa maniera collegandolo strettamente alle scelte sulle migrazioni, migrazioni che come abbiamo visto erano fondamentali per le società italiane, per la società italiana e per le tante società che stavano nel territorio italiano. Rabito collega l'avvento del fascismo alla chiusura delle frontiere all'estero, dando in qualche maniera corpo a un luogo cubone che è ancora molto diffuso oggi, anche nella pagina Wikipedia della storia delle immigrazioni in Italia si legge che fu il fascismo a bloccare le immigrazioni all'estero. Ecco, in realtà non è stato così, abbiamo visto nella scorsa lezione come siano gli Stati Uniti e le scelte politiche fatte negli Stati Uniti a decretare un blocco, prima un rallentamento, poi un blocco delle immigrazioni italiane con le leggi che vedete in questa slide, il Literacy Act del 1917, il Johnson Quota Act del 1921 e il Johnson Read Act del 1924. Le restrizioni all'emigrazione decretate invece dal governo italiano sono successive, sono una conseguenza di un grande cambiamento avvenuto a livello internazionale, appunto gli Stati Uniti ma poi anche altre nazioni di immigrazione bloccano l'accesso di nuovi immigrati soprattutto dall'Italia. il fascismo risponde qualche anno dopo con una modifica nelle sue politiche, nelle politiche di immigrazione dello Stato italiano attraverso appunto alcune disposizioni, qui ne vediamo tre, la soppressione del commissariato generale dell'emigrazione nel 1927, l'abolizione del passaporto speciale per gli immigranti nel 1928 e l'aumento della pesantezza delle norme contro le migrazioni irregolari e contro l'incitamento alle migrazioni all'estero. Dunque si ha una situazione internazionale a cui poi il fascismo risponde gioco forza, diciamo, decidendo di non promuovere più una politica di immigrazione, ma d'altronde la situazione era tale che già di per sé i flussi erano venuti a diminuire. Allo stesso tempo il fascismo attua una politica repressiva nei confronti delle persone che sono immigrate all'estero in conseguenza delle violenze fasciste. I cosiddetti fuoriusciti, migliaia di italiani, dirigenti, militanti di base, ma anche semplici lavoratori che sono stati costretti a scappare dall'Italia per le violenze dello squadrismo e per le leggi repressive del fascismo. Ecco, nel 1926, quindi siamo sempre all'inizio di questa fase di modifica delle politiche migratorie fasciste, viene emanata una legge molto dura, una legge che va a toccare un aspetto fondamentale, quello della cittadinanza e decreta appunto che la cittadinanza viene persa dal cittadino che commette o concorre a commettere all'estero un fatto diretto a turbare l'ordine pubblico del regno o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato. Dunque, la cittadinanza può essere tolta a persone che sono andate all'estero e che all'estero facciano atti che anche se non sono reati, se non hanno una fattispecie di reato, però vengono reputati dal governo come atti che possono togliere prestigio all'Italia, ovvero togliere prestigio al governo fascista, che a questo punto quindi può togliere la cittadinanza, può, come leggete, anche sequestrare i beni materiali rimasti in Italia, confiscare i beni rimasti in Italia, ma anche far togliere titoli, assegni e dignità spettanti all'ex cittadino. Questa legge viene applicata a molti noti, e meno noti, militanti e antifascisti che dall'estero cercano di far capire all'opinione pubblica internazionale quello che stava accadendo in Italia. Quindi un'attenzione da parte del fascismo alla emigrazione politica, a chi è dovuto andare fuori dall'Italia, che si articola con delle leggi che tolgono i diritti a queste persone, ma anche con un'azione di spionaggio e di polizia fatta dai consolati italiani, da agenti dell'Ogra, eccetera. Dunque, come vedete, un doppio intervento, da una parte si accetta la situazione internazionale di chiusura delle frontiere e si decreta una stretta sugli emigranti, dall'altra, per chi è già fuori, un controllo poliziesco è una perdita, è una perdita di diritti in patria. Questo presentarsi all'opinione pubblica come un governo che non vuole più che i propri migranti vadano all'estero rimarrà nella memoria collettiva, come abbiamo visto dalle memorie di Rabito. Allo stesso tempo il fascismo tenta di disciplinare, di controllare, di vincolare la mobilità interna degli italiani, quella mobilità ordinaria che andava dalle campagne alle città, dalle città piccole alle città grandi e che era causata dalla ricerca del lavoro di tanti e tanti italiani. Ecco, in questi anni siamo sempre alla fine degli anni venti, una fase decisiva, un tornante fondamentale per capire le politiche migratorie fasciste. Viene emanata una legge molto semplice che dà ai prefetti le facoltà per emanare ordinanze allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nella città. Quindi ogni prefetto può decidere quali sono nel suo territorio le misure più adatte per arginare l'afflusso di popolazione verso le città. C'è dietro questa scelta un intento di limitare il numero dei disoccupati nelle città, di preservare il decoro delle città e non far vedere agli abitanti delle città la grande povertà che c'è nelle campagne, nella società rurale, nelle società rurali italiane e questo dispositivo rientra nelle misure del ruralismo fascista, cioè di quella retorica e dispositivi normativi che cercano di arginare, di tenere la popolazione nelle campagne e intendono quindi le campagne come una sorta di settore spugna dove trattenere la disoccupazione e la povertà. Vediamo quindi con questo grafico in cui viene rappresentata la mobilità, la variegata mobilità che si svolge in Italia nel corso del Novecento, come se da una parte in grigio chiaro l'andamento delle emigrazioni verso l'estero diminuisce, si abbatte prima con la Prima Guerra Mondiale e poi pian pianino, come vedete nella fase che ci interessa trattare qui, diminuisce progressivamente. D'altra parte invece la linea nera, quella delle emigrazioni interne, qui rappresentata dagli spostamenti di residenza anagrafica, aumenta, aumenta nel corso degli anni 20 e degli anni 30 perché la popolazione non potendo emigrare tende a cercare lavoro all'interno dell'Italia e a spostarsi da una regione all'altra. Ecco, in questi anni, dagli anni 20 hanno davvero inizio quei grandi rivolgimenti che i grandi spostamenti di popolazione all'interno dei confini che poi nel secondo dopoguerra saranno eclatanti, cresceranno insieme al boom economico per cambiare il volto del paese. Ma già in questa fase sono molto importanti e riguardano appunto spostamenti che vanno dal Veneto al Triangolo Industriale, alla Lombardia, al Piemonte, a Genova, ma anche dal sud verso il nord, ma anche da tutte le regioni verso la capitale. Vedete come il numero di frecce che vadano verso la capitale sia numeroso. Ecco, questo è un elemento molto importante da sottolineare. La crescita delle città, nonostante queste disposizioni anti-urbanesimo del fascismo, continua e anzi conosce negli anni 30, soprattutto in alcuni centri, una grande crescita. Roma è un esempio molto importante. Vedete in questo grafico il picco di immigrazione, ma anche di immigrazione, qui c'è la mobilità comprensiva, ma guardate anche nella linea grigia come si vada a crescere, della immigrazione verso Roma. Quindi una città che viene cambiata profondamente, che vede l'arrivo di migliaia di persone, che vede un cambiamento complessivo anche della propria organizzazione territoriale, gli sventramenti, la crescita delle borgate, eccetera. Ma ecco, quindi è un paese in una forte dinamica territoriale, nonostante i tentativi di controllo poliziesco da parte del fascismo. Qui vedete come la polizia fascista avesse negli anni 30 predisposto una serie di punti di controllo più vicini alla cerchia urbana, questi in celeste, lungo le vie consolari che potevano far arrivare gli immigrati a Roma, ma anche, che sono questi in rosso, ma anche nei treni delle linee ferroviarie che arrivavano a Roma. Quindi una pluralità, una molteplicità di interventi di controllo per verificare che le persone che si dirigevano a Roma avessero il permesso per entrare a Roma, il permesso spesso era già un contratto di lavoro o il bisogno di andare a incontrare delle autorità o dei datori di lavoro. Quindi da una parte è una stretta repressiva nei controlli, dall'altra però è una dinamica sociale non controllata che si sviluppa in autonomia. L'altro grande scenario di svolgimento delle politiche migratorie fasciste riguarda le colonie, appunto non si può andare all'estero, le migrazioni interne vogliono essere controllate il più possibile. Il fascismo decide allora di investire, da una parte sulle migrazioni legate alla colonizzazione interna, l'agropontino, le bonifiche in Sardegna o nel sud, dall'altra lo sfruttamento agricolo dei possedimenti coloniali. La Libia in primo luogo, che era già un possedimento italiano dall'età liberale, viene in questa fase utilizzata come luogo di arrivo, di destinazione degli immigrati italiani. Per fare questo si ha bisogno prima di annientare la resistenza libica contro l'aggressore fascista e questo viene fatto in maniera brutale attraverso campi di concentramento, attraverso lo sterminio di popolazioni nelle aree libiche di maggior presenza della resistenza anti-italiana e viene fatto poi in territori nuovi. Nel 1935 inizia l'aggressione all'Etiopia, nel 1936 in maggio viene proclamata la conquista di Addis Abeba e quindi si apre un nuovo scenario, l'Africa orientale italiana, in cui verranno inviati soldati, operai e in piccola parte anche coloni. Qui abbiamo messo insieme quelli che sono gli scenari principali delle migrazioni di Stato organizzate dal fascismo negli anni Trenta. Vedete come da una parte gli espatri liberi nella prima colonna diminuiscano la chiusura delle migrazioni internazionali, ma a partire dal 1929 anche la crisi internazionale che dà un duro colpo economico alla richiesta di mano d'opera all'estero e le scelte del governo fascista di promuovere delle migrazioni controllate in determinati territori, l'agropontino, la Libia, l'Africa orientale italiana e infine la Germania. Vediamo come i numeri delle migrazioni in questi territori sono molto limitati rispetto a quelle degli espatri e delle migrazioni libere, crescono in maniera significativa in due economie legate allo sforzo bellico verso l'Africa orientale italiana, in cui l'Italia impegna soldati e operai per poter seguire l'attività militare e alla fine degli anni Trenta, in corrispondenza con la fase di impegno bellico della Germania nazista, l'invio di lavoratori italiani in Germania. Qui i numeri raggiungono cifre elevate e hanno a che fare con un disperato bisogno dell'economia di guerra nazista di mano d'opera e in questa fase iniziano dei rapporti bilaterali con la Germania di Hitler, per cui l'Italia invia lavoratori e in cambio riceve materie prime, carbone soprattutto. Si tratta di un modello di accordo migratorio che poi verrà ripreso e sviluppato nel secondo dopoguerra in un contesto completamente diverso. Per approfondire segnalo il libro di Carl Ibsen, Demografia totalitaria, il problema della popolazione nell'Italia fascista. Con questo finisce la lezione di oggi vi invito, invito a chi fosse interessato, a iscriversi al canale YouTube dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR per avere le notifiche dei prossimi appuntamenti. Arrivederci. Grazie a tutti.